Coach possiamo dire che il campionato del Lugio parte stasera? Ma quello non lo so io se parte stasera o no, secondo me il campionato del Lugio partirà ai play-off, su questo credo che sia la situazione più logica. Poi dopo è chiaro che stiamo cercando di fare il meglio possibile per non arrivare a incontrare Novara o Conegliano al primo turno, questa è la cosa più importante di tutte. Però quello che mi auguro sempre io è che ci sia, adesso ci sono anche degli innesti, quindi è un po' una squadra da costruire, ci vuole ancora un po' di tempo. Peterson ha bisogno ancora di una quindicina di giorni, quindi bisogna andare con calma. Poi c'è la Abbott e soprattutto una Mingardi subito in campo e poi si è capito anche il perché. Ma sì, non bisogna sovraccaricarla perché Mingardi è una ragazzina giovane che non ha mai giocato in posto 4 e mai ha fatto il titolare di una squadra come questa. Ha sicuramente un grande talento, però bisogna lasciarla stare, cioè deve essere tranquilla di poter sbagliare, di fare il 50% come stasera, ma è piccolo, bisogna stare calmi. Tutto bene, tutto perfetto questa partita. Nel terzo set 11-3, poi c'è voluto un terzo check per reagire e rispondere al recupero di Pesaro. E questo è ancora un po' il nodo cruciale, nel senso che non abbiamo ancora quella capacità di chiudere le partite quando le partite sono già finite, capito? E quindi magari lì involontariamente la squadra si siede un po'. Questo secondo me è un errore molto grosso perché quando giochi a alto livello poi dopo con le squadre forti paghi sempre. Ora Novara, da ex, il campionese d'Italia, però lei ci va con una squadra che può vincere? Ma io credo che noi, come anche è stato sempre l'anno scorso, tutte le mie esperienze, si può vincere con tutti e perdere con tutti, dipende da come giochi. Andare a Novara sarà bello perché io ho portato il primo scudetto, quindi vado là fiero e a testa alta. Grazie e complimenti. Prego.